Penultimo turno di eccellenza con Nero Stellati e Alba Adriatica che si affrontano per traguardi diversi. Da una parte i Peligni in piena zona play-out e all'inseguimento della salvezza, dall'altra gli Albensi in cerca di punti con cui tenere aperto il discorso play-off. Dopo il minuto di raccoglimento per il decennale del sisma aquilano, a dare il calcio d'inizio sono i ragazzi del centro diurno per l'autismo di Pratola Peligna nell'ambito del fuorirete, il progetto di inclusione sociale portato avanti insieme alla squadra Nero Stellata. Nei parroni di casa fuori per infortunio 40 con Sisse in panchina solo per onor di firma. In avanti spazio a pendenza supportato da Sosa, negli ospiti assente per squalifica Petrini. In attacco agisce la premiata ditta Miani-Giambè. In avvio di gara predominio territoriale al Benze e al dodicesimo e il palo a dire di no a Giambè che appena due minuti dopo sfrutta al meglio un pallone recuperato dagli ospiti su errore in uscita dei Peligni. 0-1 e palla al centro. Alla mezz'ora si rivede l'alba ma la conclusione di Emili trova la risposta in due tempi di Amo. Al 32esimo cambio forzato per i Nero Stellati con Signi che rileva l'infortunato Giallonardo sanquinande dopo un fortuito testa contro testa con Foglia. Poco dopo i Nero Stellati sfiorano il pareggio con il destro di Pelino che manca di poco lo specchio della porta rosso-verde. La squadra pratolana ci prova ma quando l'occasione sembra quella giusta è Sosa a vanificare il tutto con una rovesciata tanto brutta quanto inutile. In apertura del secondo tempo l'alba adriatica ci riprova su punizione ma il tentativo di Di Nicola trova la pronta risposta di Amo. Anche i Nero Stellati ci provano su palla inattiva ma sull'invito di Verrocchi è Iacobucci a spedire di poco a lato. Onua Schiper Verrocchi è il secondo cambio Peligno quando però Del Gizzi tocca col braccio il pallone rimbazzatogli sul volto. Il signor D'Adamo della sezione di Vasto non ha dubbi e indica il dischetto sul quale si presenta Miani che firma il raddoppio al Benze con la sua ventunesima rete in campionato. La squadra di Izzotti mette in ghiaccio i tre punti gestendo bene il pallone e la parata conclusiva di Masi è la rappresentazione della giornata dei Nero Stellati. Al triplice fischio finale i pratolani guardano già ai play out mentre l'alba adriatica mantiene apertissimo il discorso play off. A fine gara voce al tecnico Peligno Alberto Bernardi e all'attaccante al Benze Simone Miani. Continuare a lavorare come abbiamo fatto adesso cercando di avere meno problemi possibili dall'esterno e cercare di compattarci. L'obiettivo è uno, deve essere comune, non deve essere un obiettivo di alcuni ma veramente di tutti. Chi se la sente di rimanere è giusto che rimanga fino alla fine, chi non se la sente che sa di non poter dare niente è meglio che vada via subito. Perché da qui in avanti non abbiamo bisogno di gente motivata, di gente che ha giocato questo tipo di partite. Abbiamo bisogno di alzare un pochettino l'asticella perché sennò diventerà tutto tutto difficile. Per te anche la ventunesima rete stagionale una soddisfazione doppia quest'oggi? Sì sicuramente, era quello che ci eravamo prefissati, nel senso lasciare fino all'ultima giornata il discorso aperto. Sapevamo che affrontavamo una squadra che si doveva salvare quindi era una partita difficilissima ma quando è un momento di difficoltà la squadra viene sempre fuori quindi faccio complimenti a tutti i miei compagni perché vincere oggi sul campo dei Nerostellati era veramente difficile. Questa squadra che adesso ha anche vinto il premio valorizzazione, questa è una nota di merito, tanti fuori quota in una stagione condotta nelle sfere alte della classifica. Sì sicuramente, era l'obiettivo numero uno della società, far crescere i giovani. Penso che l'obiettivo al di là di come andrà a finire quest'annata è stato sicuramente raggiunto, al di là che abbiamo vinto la classifica dei giovani e sicuramente col fatto che stiamo in questa posizione di classifica ha fatto sì che i ragazzi sono migliorati dal punto di vista tecnico quindi per l'Alba Adriatica penso che sia una stagione positiva e adesso cercheremo di concludere nel migliore dei modi.